Sì, Cristo che era, che è e che viene e che ci regala tanta luce, tanta gioia di incontrare e di riconciliarci, di vedere la bellezza e la ricchezza della Chiesa, di questa comunione che ci unisce, che unisce tanti nell'unico amore che il Signore è venuto a manifestare intorno a Cristo, il Figlio di Dio. Quanto abbiamo bisogno di epifania, di vedere la luce nella nebbia fitta che avvolge il mondo e la nostra vita e non dimentichiamo che ne abbiamo bisogno noi e proprio come ne abbiamo bisogno noi lo hanno anche gli altri. Qualche volta pensiamo solo al nostro o pensiamo che per gli altri sia diverso, è sempre molto saggio, molto umano e molto evangelico fare agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. Abbiamo bisogno di vedere una presenza buona, di commuoverci per qualcosa di bello che non ha ombre, libero dalle pagliuzze che ci riempiono di diffidenza e qualche volta ci fanno sentire sporchi. Più delle volte vediamo negli altri lo sporco e quindi tutto sporco. Quanto abbiamo bisogno di una luce che duri, della quale non dobbiamo temere che ci lascerà il buio o che cosa ci chiederà dopo in contraccambio. Abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di amore, che non si vende e non si compra, da accogliere e da donare più forte delle differenze e delle inevitabili difficoltà. Un amore che si trasformi e non finisca, che sia capace di aggiustare quello che si ferisce o si rompe. Erode vuole spegnere l'amore, uccidere la speranza, porta via quella luce, come il consumismo, il benessere senza il prossimo. Erode ci fa sentire importanti, tanto da coinvolgerci nelle sue preoccupazioni. In realtà ci usa. Noi serviamo a lui, non lui a noi. E quando non serviamo più, ci butta via. Rivela la violenza di chi vuole possedere. La violenza dell'individualismo che insegna solo il salva te stesso. Lui voleva salvare il suo potere contro quel re concorrente, un re bambino. E quando c'è il salva te stesso, vince il tutti contro tutti. Scrive Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Abbiamo bisogno di capire quello che illumina la grotta scura della vita, che poi a volte è l'abisso del cuore stesso che si spalanca dentro di noi, che diventa un baratro di rassegnazione, dal quale sembra impossibile uscirne da soli e dove a volte finiamo per condannarci, tanto che diventa un riparo, facendoci sentire sempre vittime. Abbiamo bisogno di capire dove finisce la nostra vita, dove finisce la vita dei nostri cari. scompare nel nulla, inghiottita nel non senso, per cui alla fine resta solo il presente, consumarla più che si può e a un certo punto buttarla via quando non vale più la pena. A che serve affannarsi, costruire, seminare, piantare alberi, se poi c'è solo la fine e tutto sembra vano, quanto abbiamo allora bisogno di luce, di speranza, di qualcuno che ci prende sul serio ma non ci possiede, che aiuta a capire quello che succede ma non fa lezioni da remoto, vive con me, cammina con me. quanto abbiamo bisogno di qualcuno a cui aprire il cuore, di cui fidarsi, da prendere sul serio perché so che mi porta dove serve a me e dove c'è vita vera. Insomma, un amico vero, un innamorato che mi educhi all'amore, non uno dei tanti professionisti che si occupano della mia psiche o di quella degli altri, esperti di risposte, qualche volta di banali verità, ma che in fin dei conti mi lasciano solo perché poveri di amore anche perché per imparare a stare da soli dobbiamo imparare a stare con gli altri e per amarci dobbiamo trovare qualcuno che ci ami e da amare, che non mi dia le istruzioni per l'uso dell'amore e mi ami e mi insegna ad amare. Per imparare chi sono debbo trovare uno per cui valga la pena essere migliore, con cui trovare tutto me stesso facendo mia nell'amore l'altra metà che è Lui e che è il mio prossimo. Fratelli e sorelle, costui è Gesù, è Lui, è il Figlio di Dio che si manifesta oggi, domani, sempre nella nostra vita perché sia nella luce, perché sia sconfitta la nebbia, perché non vinca il male, perché possiamo affrontare questa pandemia e tutte le pandemie, perché possiamo essere Suoi, perché ci vuole Suoi, perché è venuto per amore. Questa pandemia ci costringe per certi versi a tutti noi ad essere universali, perché ci fa capire che siamo tutti sulla stessa barca, che il mondo è unito ed è davvero un ospedale da campo, ma dello stesso campo, per cui dobbiamo e possiamo preoccuparci di tutti, perché in fondo mi preoccupo anche per me stesso e che ognuno è responsabile di se stesso e degli altri, nel bene come anche nel male. Allora, la manifestazione di Gesù che oggi celebriamo, di questa barca in cui siamo tutti riuniti da tanti luoghi, con tante lingue, da tante provenienze, tutti una cosa sola, perché riuniti dal Signore Gesù intorno a Lui, Suoi, ecco, in questa epifania capiamo il contrario della pandemia, e la salvezza che si mostra, la presenza di Dio per tutti, tutti amati, di un amore universale, personale, per ognuno, cioè, per tutti e per ognuno, e ci rende una cosa sola. Allora, nessuno si è lasciato solo, nessuno si è guardato con diffidenza o con estraneità, o visto soltanto con pregiudizio, per cui ci interessa l'etichetta e non la persona. Quante pandemie dividono, perché poi il rischio della pandemia è davvero il salva te stesso. In realtà sono tante, tutte causa di terribili sofferenze, di morte e le pandemie della violenza, della fame, della guerra, della mancanza di lavoro rivelano quanto in realtà siamo tutti fragili e vale anche per queste che quello che succede agli altri mi riguarda. Cioè, non è soltanto nella pandemia del Covid, ma anche nella pandemia della fame. chi c'ha fame riguarda me, ma io ho la pancia piena, riguarda me, perché è una pandemia. Come questa, la stessa cosa. Se scopriamo per noi, per il nostro fratello, perché è il nostro fratello, la sua e nostra debolezza, possiamo capire qual è la nostra vera forza. e questa forza di Dio che si fa debole in mezzo a noi, luce in mezzo a noi per rivestirci della sua forza per illuminarci con il suo amore. Infine, questi magi si sono messi in cammino e non sapevano cosa avrebbero incontrato, ma sapevano che avrebbero trovato il loro re, cui appartenere e al quale donare tutto. Ecco, questi magi sono i tanti cercatori di speranza, di futuro, che cercando in alto come ha con intelligenza sintetizzato Papa Francesco, cercando in alto trovano l'altro, cercando il cielo imparano a camminare sulla terra, cercando la luce affrontano il buio e solo l'incontro con Gesù ci fa trovare la risposta, perché lui è la risposta al desiderio profondo che è nascosto in ogni uomo, in ogni uomo, tutti in realtà come dei magi che dobbiamo camminare per trovare il nostro re. E anche noi dopo l'epifenia come i magi ci rimettiamo di nuovo in cammino. Dobbiamo tornare ad affrontare i tanti incroci nei quali bisogna scegliere e spesso non sappiamo come fare. Vogliamo non sbagliare? Qualche volta finiamo per non decidere, perché quando si cammina siamo posti di fronte a pericoli insidiosi da cui difenderci e i più temibili sono quelli che non si vedono dei quali non sappiamo valutare le conseguenze. L'incontro con Gesù questa luce ci mette di nuovo in cammino ma è dentro di noi. Quel re ci accompagna e ci dona la sua forza e il suo potere. Non vaghiamo più perché abbiamo lui siamo suoi abbiamo lasciato a lui quello che avevamo di più prezioso i nostri doni e siamo ripartiti e ci rimettiamo in cammino con l'unico dono che è Gesù ricchi di lui della sua luce che entra nel nostro cuore e ci rende luminosi perché la manifestazione di Gesù è anche affidata a ognuno di noi. luce che dobbiamo donare a chi incontriamo a quei tanti che sono nel buio della solitudine dello smarrimento che non hanno una stella nel cielo troppo buio che si smarriscono senza orientamento. La pandemia sgomenta ed è insidiosa allora ecco l'impegno dell'epifania manifestare noi la luce ai tanti che la cercano unire tutto il mondo un po' come questa sera fisicamente tra di noi ma unirli nel nostro cuore nella nostra preghiera nell'attenzione verso tutti luminosi di amore particolarmente quando c'è il buio intorno a noi e il buio peggiore è quello dell'indifferenza per cui non esisti questa è la grande prospettiva della epifania fratelli tutti il contrario appunto della pandemia il male per tutti Gesù ci insegna a pensarci insieme senza avere paura della nostra fragilità ma rendendoci forti con il suo amore oggi siamo raggianti palpita il cuore della nostra madre chiesa e di ognuno di noi si dilata impariamo a liberarci da tante misure piccole avare per sentirci come siamo fratelli universali che sono a casa con tutti perché in tutti vedono il fratello perché il mondo è la nostra casa perché il prossimo è il mio più caro con cui cammino grazie signore per la chiarezza della tua luce nel buio delle pandemie che provocano tanto smarrimento e sofferenza il tuo amore ci dona la forza di essere fratelli tutti membri di un popolo che non conosce confini liberi dal cinico erode dell'individualismo che umilia l'individuo donaci di essere luminosi pieni di amore per tanti che sono nel buio perché tanti possano vedere attraverso di noi i segni della tua presenza perché tu non ti nascondi e ti mostri a chi è nella sofferenza perché sei un Dio di luce di amore e di pace